Abbiamo sentito chiamare Massimo, Massimo. Basta. Il nome del cugino, urlato a squarciagola prima di essere inghiottito dalle acque del Piave in piena, è disperso da stamattina, poco dopo le 4 e mezza. Gianfranco Zamuner, 78 anni, di Musile, assieme a quattro cugini, stava sganciando il ponte di barche di Fossalta per accostarlo alla riva. Operazione resasi necessaria per agevolare il deflusso della piena dopo le forti piogge delle ultime ore. Nessun rumore, nessuna irregolarità nelle operazioni di sgancio, solo quell'urlo rivolto al cugino che era più vicino agli oltre 80 metri di lunghezza del ponte. Subito i familiari sono corsi a vedere che cosa fosse accaduto. Abbiamo detto va, va, arriva, va, arriva, ma dopo basta insomma. Immediatamente è scattato l'allarme sul posto, i vigili del fuoco di Mestre con diversi mezzi e personale esperto in queste ricerche da Sandonà e Mestre, le ricerche condotte con l'ausilio dei droni e dell'elicottero sul posto anche i sommozzatori che però non si sono potuti immergere, troppo pericoloso con il fiume così pieno ed impetuoso. Sull'argine di Fossalta anche i carabinieri e lo Spisal, un'operazione semplice quella che stavano eseguendo, fatta centinaia di volte dai cugini, una ventina soci della Zamuner, ponte di barche. Le operazioni semplici che noi facciamo in questi casi da una vita stavano sganciando e noi tutti sulle proprie postazioni, io stavo manovrando con mio cugino Walter qua dall'altra parte perché è successo da quella sponda, cioè qua, la Fossalta, e non l'abbiamo più visto. Abbiamo sentito un attimo chiamare dall'acqua, ha chiamato l'altro mio cugino perché siamo quattro, tutti i primi cugini perché i nostri papà erano i soci fondatori e massimo, massimo, abbiamo corso e basta, non abbiamo proprio visto la caduta. Anni e anni che facciamo sempre il stesso movimento, sempre il stesso movimento. Lui fa quello, noi facciamo altro, ma sempre la stessa cosa. E' questo che non si spiega come ha fatto cadere. Cosa si è successo? Cosa si è successo?